Francesco Panasci, primo classificato, poi hai rinunciato, ma chi si lamenta a Capodanno si lamenta tutto l'anno. Ma guarda, sembrerebbe quasi la protesta dei disillusi di chi non ha avuto il ben servito al comune. In effetti noi siamo molto, come dire, incavolati perché a partire da questa burocrazia, dalla gestione della dirigenza nei confronti di un bando che è stato richiesto e presentato a tutti noi in manager entro il 25 novembre e poi ci ritroviamo ancora al 21 con un'ufficialità di gradatoria e ancora senza nessun contratto firmato. Personalmente per quello che mi riguarda, come primo classificato, avevamo presentato Michel Telò e Calè. Chiaramente al 21, se noi dovevamo confermare l'artista, bisognava spedire immediatamente un bonifico bancario di tante migliaia di euro, ma è chiaro che al 21 potrebbe diventare anche pericoloso e non avere più l'artista. Allora io mi chiedo, se il bando scade il 25 novembre, perché ritrovarci tutti quanti al 21 dicembre per selezionare nuove proposte? Allora, di fatto c'è un fatto di menefreghismo puro da parte della dirigenza di chi ha, come dire, gestito queste carte. A noi questo non sta bene. Poi dall'altra vediamo che sono stati utilizzati due mesi e due misure. A me hanno chiesto di inviare immediatamente una rinuncia perché, essendo stato votato per Caled e quindi classificato al primo posto per quell'artista, non capisco perché invece al Nuccio Laferlita, che chiaramente fa il suo lavoro, deve vendere i suoi prodotti, non avendo più Giussi Ferreri, si è ritrovato invece a fare una trattativa privata col dirigente e discutere di altri artisti, dice, della stessa qualità, dello stesso pari importo se vogliamo. Allora questo non può esistere. O si tornava indietro, si dava la possibilità di presentare un altro piano artisti e quindi Pana Studio continuava ad essere al suo primo posto e gestire con una trattativa con la dirigenza o utilizzare la stessa misura con il secondo classificato, Nuccio Laferlita andava escluso e passare al terzo posto. Di noi imprenditori non gliene frega niente a nessuno. Rischiare il nostro denaro per portare anche benessere alla città, il fatto che un imprenditore locale si esprima nella propria città nel momento più importante dell'anno, che è il 31 di dicembre, e che fa sì che molta altra gente possa lavorare all'interno di quel progetto, debba essere molto di responsabilità a parte di questi dirigenti. Ma ancora di più non sottovalutiamo la denuncia che aveva fatto Toni Bassi, in quanto esclusivista di un artista che lo ritroveremo sul palco di Capodanno, con tanto di denuncia, e non solo, ma presentato da un'altra azienda. Quindi c'era anche un altro vizio, quello che due imprenditori portavano lo stesso artista e questo andava, mi dispiace per Toni Bassi che è presente, ma lo dico in piena amicizia, andavano esclusi tutti e due. Allora c'è qualche cosa che non sta funzionando e ancora di più non abbiamo visto una presa di posizione dal nostro sindaco che in quel caso poteva anche annullare l'avviso e forse poter fare anche una trattativa diretta con chi volevano. Però questa azione così, fatta un po' nascosta, un po' fatta nell'ultimo momento, nell'ultimo minuto, ha fatto sì che noi diventassimo tutti nervosi e che non accettiamo questa condizione. Tu da imprenditore palermitano, presidente del gruppo Pana Studio, parlavi anche di maestranze locali messe da parte. Eh sì, perché è chiaro che la Ferlita porterà dietro i suoi uomini di fiducia, le sue aziende, il servizio di Catania, le maestranze di Catania, i fattorini di Catania. Quindi il consiglio è che se il prossimo anno vi comportate così, tanto vale prendere una quota di bilancio e farla gestire direttamente a Catania piuttosto che ai palermitali. Pochi giorni alla festa di piazza, ma le polemiche non si placano, tante rivendicazioni contro un'amministrazione comunale. È troppo lenta l'amministrazione comunale ad aprire le buste perché sono state consegnate il 23 novembre e mi sembra assurdo che l'amministrazione comunale abbia avuto tutto questo tempo per aprire le buste, lasciamo stare l'apertura delle buste, ma quello importante è che la posizione dell'amministrazione comunale che non ha preso nessuna posizione sulla mia denuncia fatta a Toni Colombo che la rivendico a pieno regime perché io ho documenti inoppugnabili, anche documentazione su Facebook che lui dice di ringrazio alla Toba Service di averlo messo nel progetto di Capodanno che è la prima volta dopo 40 anni che presentiamo il progetto al Comune di Palermo perché noi siamo un'azienda di servizi e non un'azienda che vende artisti. L'errore del Comune di Palermo è proprio questo, che non mette in bando tutti i servizi che vanno messi sul MEPA, che oggi è l'organo competente per mettere sul MEPA tutti i servizi. Dovrebbe prendere esempio dal Comune di Napoli, noi abbiamo vinto una gara precisa e identica al Comune di Palermo come l'abbiamo vinta sul Napoli. Quindi una denuncia che porterà sicuramente degli strasci che non si fermerà qua, un Capodanno che andrà avanti. Gli strasci che io l'ho fatta la denuncia, sono chiamato pentito, sono chiamato sbirro, sono chiamato... ho fatto quello che mi sentivo in dovere di fare dopo 40 anni di attività. è assurdo da parte del sindaco che non prende nessuna presa di posizione a dire ma come è combinata questa storia? Chi ha l'esclusiva di Toni Colombo? Perché io l'ho prodotta subito in sede di cara. Sicuramente ci sono due punti importanti che dobbiamo sottovalutare. La prima è la denuncia ai carabinieri fatta dalla società di Toba. Il secondo punto fondamentale è che ha vinto una società rimodulando un progetto originale. Quindi questo cosa significa? Che la società di Nuccio Laferlita aveva acquisito un punteggio rispetto a due artisti che doveva portare in piazza, Toni Colombo e Giussi Ferreri. Giussi Ferreri non era più disponibile ed è stata cambiata con tre artisti che loro amministrazioni dicono di ugual valore. Ma non è così perché parliamo di Tinturia, Visti e Rivisti, Mario Venuti che ce lo troviamo dappertutto e poi Antonella Ruggero che è sempre qui a Palermo. Quindi ovviamente c'è una cosa che non è andata ed è quella di avere dato un punteggio a una società e di aver vinto con questa società con questo punteggio in realtà con l'artista che manca. E la cosa importante era che Toni Colombo vi era un'esclusiva dichiarata da una società, io non so come faccia il comune di Palermo a non dire stop, fermiamoci e continuare ad andare avanti. Quindi noi vogliamo una risposta da parte dell'amministrazione che ci dica perché sono andati avanti. Ho presentato anche un bando perché sono editore di un emittente radio televisiva che è anche concessionaria di frequenze e quant'altro e abbiamo anche un'agenzia spettacoli e artisti da tanti anni. Quindi abbiamo deciso quest'anno di partecipare a questo bando di Natale per offrire qualcosa anche noi alla città di Palermo, però non è stato possibile, non che volevamo vincere assolutamente, però voglio dire insieme a tanti amici alla fine quando è successo tutto questo caso abbiamo detto perché non facciamo una cosa tutti insieme, unitamente, realizziamo una cosa anche a fronte di far lavorare gli artisti palermitani. Invece mi sembra che alla fine tutto è andato a discapito, dei palermitani non ci sono, credo forse, a parte qualche amico che parteciperà al Capodanno è l'unica cosa che ci dà un minimo di sollievo, insomma, qualche amico che partecipa, tutti gli altri sono assolutamente fuori dalla città di Palermo. Incredibilmente credo che l'errore possa essere stato quello nel non tornare indietro di una posizione, quindi di ridare la possibilità a chi era al primo posto e quindi non avesse il primo artista di chiedere il cambio artista e quindi si è andato avanti nella graduatoria, cosa che è successo anche al secondo, quindi anche il secondo non aveva l'artista che aveva già scritto nel bando, a questo punto si doveva andare avanti allora di uno, insomma, chiedere a scala a tutti quanti fino ad arrivare a chi aveva gli artisti. Se non ci fossero stati gli artisti allora si ripartiva dal primo, invece così si è bloccato il tutto al secondo che si è dato la possibilità di rimodulare, riaggiustare, cambiare artisti. Giuseppe Stancampiano, un giovane emergente, un comico palermitano, anche lui con delle rivendicazioni riguardo al bando di Natale e riguardo al Capodanno. In particolare rappresento in questo momento i comici del convento, Matranga e Minafoghe, stanno a Medin Sud, altri comici emergenti, qui abbiamo fatto squadra per cercare di portare la nuova comicità. Abbiamo partecipato al bando ma siamo stati esclusi per una non pervenuta integrazione che in realtà non è così. Quindi ancora problemi burocratici. Problemi burocratici, perché loro hanno richiesto un articolo 38 che hanno fornito loro, poi durante lo spoglio del bando hanno visto che l'articolo 38 che avevano fornito non andava bene, hanno chiesto dall'oggi a domani di fornire quello nuovo, anche se abbiamo fornito nei tempi stabiliti ci hanno escluso per mancata integrazione e nessuno ci dice il vero motivo del perché dell'esclusione. Anche un vostro video di protesta su Facebook? Sì, abbiamo creato un video di protesta perché per noi ormai la denuncia in questo caso non possiamo fermare. Social. Social è quella che arriva più efficace, infatti abbiamo avuto 2.000 condivisioni, 90.000 visualizzazioni e tutti ci appoggiano e tutti si sostengono perché comunque è un problema che, come si è visto, nessuno è andato contro perché tutti abbiamo avuto lo stesso problema. Noi come associazione, le altre associazioni, quindi per problemi burocratici ci troviamo ad aspettare che il comune ci aiuti in qualcosa. Nel momento che esce la possibilità di essere aiutati invece ci ritroviamo sempre fuori. Pochi giorni dal Vejonissimo, dal Capodanno e ancora a Bufera. Sì, purtroppo al Comune di Palermo come spesso accade si arriva all'ultimo giorno utile per fare il Capodanno. Quest'anno devo dire che uno dei grossi problemi è stato il bilancio, però credo che quelle proteste che stanno mettendo in atto i rappresentanti, naturalmente di chi ha presentato le offerte di Capodanno sono legittime e credo che siano condivisibili. Credo che ci siano proprio degli errori di fondo. Io mi auguro tanto che ci si possa rivedere in questa situazione anche perché ci sono delle contraddizioni non indifferenti.